Comincia nel migliore dei modi il Giro di California 2016 per Peter Sagan. Il capitano della Pinkoff si è infatti imposto nella prima tappa al termine di una volata di gruppo nella quale ha superato Wouter Wippert e Dylan Gronewer, mentre Brian Cocard ha chiuso al quarto posto. Per lo slovacco, campione del mondo in carica, arriva dunque subito la maglia di leader della corsa.